E' nota la vicenda che coinvolge 108 lavoratori di Castelfiorentino che per due anni, lunghi e sofferti, hanno difeso il lavoro aspettando, in un presidio duro e interminabile, che la vertenza Shellbox si concludesse con un lieto fine, che facesse dimenticare le sciagurate scelte dei vecchi proprietari che avevano portato al blocco della produzione di meravigliose ed efficienti case mobili. Alcuni mesi fa la buona notizia, un imprenditore voleva riprendere le attività e dunque ridare il lavoro e dignità di un bel lavoro. E arriviamo ad oggi, alla disdetta partecipativa che scuote gli animi di tutti, scaraventando lontano la speranza che lascia il posto ad amarezza e sdegno. Sì, ma è una notizia che è quasi un fulmine al ciel sereno, anche se aveva tutte le caratteristiche per poter essere portata in porto, però diciamo che alla fine si è dimostrato l'inconsistenza della proposta, ovvero cioè che questo gruppo di imprenditori che intendeva rilevare l'azienda era un gruppo di imprenditori un po' inventato e si è dimostrato nei fatti con addirittura l'ultimo schiaffo, non è quello solo che non aveva presentato l'offerta, ma l'ultimo schiaffo è che oggi pur invitati a un tavolo di confronto con le istituzioni, con il rappresentante del tribunale, questo gruppo di imprenditori non è venuto, quindi la dice lunga sulla poca capacità imprenditoriale di queste persone. Però ci si è creduto a lungo? Ci abbiamo creduto per la semplice ragione che era l'unica cosa che potevamo fare, perché non c'erano altre alternative, non si è presentato nessuno, c'è stata una forte determinazione dei lavoratori, è un'avvertenza questa che abbiamo vissuto tutta sulle spalle delle persone, perché oltre 20 mesi di presidio, per evitare che lo stabilimento fosse svuotato da qualsiasi condizione fosse portata via la roba, i lavoratori l'hanno difeso proprio fisicamente, hanno fatto vivere l'avvertenza a quel territorio, l'hanno fatta partecipare, non è bastato. Questo segna nuovamente il fatto che noi viviamo in un paese, la provincia di Firenze, essendo in Italia, non è esclusa da ciò, dove manca totalmente una classe imprenditoriale. Qui si misura la non capacità di avere una classe imprenditoriale in grado di investire in qualcosa che non sia la rendita finanziaria e immobiliare. Non è pensabile che la non capacità e la non volontà di imprenditori di fare impresa, poi i costi sociali di quelle scelte sciagurate ricadano sul territorio. Vorrei ricordare che la Costituzione dà una responsabilità sociale alle imprese, che è totalmente assente nella azione quotidiana di questi imprenditori. Insomma, diciamoci la verità, abbiamo dei dilettanti allo sbaraglio, che fanno pagare i costi e le loro scelte all'intera collettività, in primis a lavoratori. Mitomani si potrebbe riassumere? Mi piace essere nel mondo dell'apparire di oggi, andare a fare uno show sui giornali e dire che salvo 160 posti di lavoro, come erano all'epoca i lavoratori della Shell Box, li ha fatti diventare degli eroi. E poi, come si è visto, sono degli eroi di Hartham. Io quando ero piccolo leggevo Alan Ford, c'era Superciuc che rubava i poveri per dare ai ricchi. Ecco, noi ci troviamo nella stessa condizione, noi più che imprenditori in questo paese abbiamo tanti Superciuc. C'è una fase nuova che si apre? Drammaticamente sì, è una fase nuova che è quella che domani consegneranno 108 lettere di licenziamento, quindi che dal lunedì questi ragazzi andranno ai centri per l'impiego prima e poi a iscriversi alla mobilità. Poi ci saranno i percorsi formativi e la ricerca disperata di posti di lavoro. Noi abbiamo chiesto che comunque ci sia un'attenzione importante qualora si presenti un soggetto industriale a rilevare il capannone che, come dire, rispetto al bacino oggi di lavoratori, siano loro elemento, come dire, di acquisizione anche un domani, vedremo quello che poi succede. Questa è la fase che purtroppo si apre. Grazie.